Il 2020 per la nostra azienda è stato un anno estremamente positivo, ha contribuito sicuramente il bonus di strutturazione che ha dato una spinta verso l'alto al consumo di tutti i prodotti vernicianti, ma abbiamo potuto con piacere constatare una riscoperta da parte di tanti italiani del lobby del bricolage. Lo fondamentale della nostra produzione è il cuore del nostro prodotto e qui si racchiude il segreto della qualità dei nostri prodotti. La scelta dei filamenti, delle percentuali, della miscelazione che si trova all'interno dei vennelli cinghiale è un segreto ben custodito e le nostre miscelatrici ne sono custodi. Vediamo con quanta sapienza, con quanta attenzione avviene la scelta e la lavorazione di questi filamenti. La ricerca e sviluppo per pennelli cinghiale è un investimento fondamentale. Ricerchiamo continuamente nuovi filamenti per la produzione dei nostri pennelli e nuove fibre per quanto concerne i rulli. Questo per stare sempre al passo con i tempi, con le nuove formulazioni di pitture che si affacciano sul mercato. Negli ultimi anni il prodotto complementare che ci ha dato più soddisfazione in termini di crescita è proprio la pittura. Le pitture cinghiale sono studiate nel rispetto di quelli che sono gli aspetti fondamentali per la salute del consumatore e soprattutto con una qualità veramente eccellente in applicazione. La ricerca di una nuova vernice ha dato risultati straordinari. Si tratta di una vernice a base di ioni d'argento. È una pittura testata che blocca la proliferazione batterica sulle superfici su cui questa pittura viene applicata. Sappiamo che questo aspetto è sempre più importante ed è una tecnologia che esisteva da diverso tempo nelle sale operatorie, ma mai prima d'ora era stata utilizzata nelle case. Un'altra pittura veramente interessante e al passo coi tempi è la pittura cinghiale al bicarbonato, una pittura che contiene oltre il 95% di ingredienti di origine naturale, il cui componente principe è il bicarbonato di sodio che come sappiamo ha un forte potere assorbente, quindi va ad avere una performante attività contro le muffe e al contempo permette a questa pittura di raggiungere un punto di bianco veramente straordinario.